Toshiba Portage G810 è un prodotto touchscreen senza tastiera un grande display con un'interfaccia utente ad icone quindi molto intuitiva su una piattaforma sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6.0 il prodotto è HSDPA, HSUPA quindi UMTS veloce con la camera qua di fronte VGA e una camera sul retro da 3 megapixel memoria anche qui estraibile fino a 2 gigabyte camera, lettore MP3, video e controllo dell'email, navigazione, GPS integrato